eh, riesce a fermare... ah, è già fermato... buono, buono anche l'occhio, guardagli l'occhio lo guarda attraverso la telecamera, che occhio! occhio in due po' ti si vede sotto l'occhio è vero, è vero, è vero ma com'è fisso peccato che la telecamera non può riportarlo è vero, è vero, è vero ah, quando riesco a mettere a focus è vero, è vero, è vero è vero, è vero no, no, non far cambiare perché se no, se mi fai l'interno domani sono rovinare però mi decide chi? Per ora è in grado di per ora? eh, ho capito, però gli ho detto fin dall'ultimo che ti portavo la telecamera se adesso scopre che che glielo rossa mi decide perché lo vuoi marta l'aria? eh? se vuoi imbortalarlo ah, da certo non fare le incontrature troppo mosse ma non si vede bene ci vuole un bel amore si vede bene, ci vuole un caffè peccato che si veda bianco e nero, eh? esatto no, 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 no se no, tu lo vado bene, io lo vado non lo vado a rispondere ma stai resistendo? non lo vado a rispondere non lo vado a rispondere non lo vado a rispondere ma non lo vado a rispondere ma poi voglio liberare stasera oh Dio vai a rispondere e te di che sono io eh adesso va a rispondere del mio No, 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 no.